allora buongiorno a tutti ragazzi come promesso vi rispiego un attimo la tecnica vi faccio vedere i due passaggi per i nuovi iscritti la tecnica milano napoli prendete carta e penna così almeno vi rimane vi rimane segnata e non la dimenticate una bellissima tecnica che in 12 mesi produce almeno 9 ambi secchi e siamo all'incirca 8 ambi secchi due ambetti e nel giro di 12 mesi ci sta un paio di mesi esito negativo perciò la ritengo un'ottima tecnica e la tecnica che avete vinto tutti quanti col 18 e 48 e vi spiego un attimino per i nuovi iscritti come si calcola allora carta e penna pronti allora ogni seconda estrazione di ogni mese seconda estrazione di ogni mese prendete il terzo estratto di milano vedete a giugno seconda estrazione di giugno il terzo estratto di milano e il 78 il 78 e la nostra ambata col 78 i due abbinamenti sono il 18 e l'81 e si gioca per ambo e ambetto una volta che paga l'ambetto col 18 81 si può giocare l'ambo vertibile 78 87 ma si inizia sempre col 78 con i due abbinamenti 18 e 81 il 3 giugno avevamo il 78 secondo colpo si gioca ovviamente per tutto il mese al quarto colpo 79 81 ambetto sulla ruota di napoli ovviamente le ruote di gioco sono milano e napoli una volta che paga l'ambetto si può iniziare a giocare sempre su milano napoli l'ambo vertibile ovvero in questo caso 78 87 si gioca pochino per ambo e ambetto perché molte volte dopo aver pagato con i due abbinamenti ovviamente spara l'ambo vertibile vedete il 78 quante volte rimane presente sulle due ruote in questo caso aveva pagato l'ambetto ovviamente si gioca fino al secondo la seconda estrazione del mese successivo luglio eccola qui 48 il milano napoli poi era fortissima perché ovviamente era in terza posizione 48 milano napoli in isotopia perfetta 18 e 81 nonostante ci fosse già al 48 81 presente su napoli ok perciò 48 18 48 81 e ovviamente alla grande avete incassato tutti quanti il 14 luglio col 18 e 48 in ambo secco a questo punto si poteva giocare 48 84 per ambo e ambetto sempre su milano napoli ricordatevi sempre una volta che esce almeno l'ambetto con uno di due abbinamenti si inizia a giocare 48 84 primo colpo di gioco sulla ruota di milano 47 e 84 a secondo colpo successivo napoli 49 84 questa è una tecnica che se la sapete usare se la sapete usare e è un buon investimento ovviamente adesso aspetteremo la seconda estrazione di agosto l'aspetteremo tutti quanti così scrivetevelo nel calendario quando ci sarà la seconda estrazione di agosto andrete a fare questo piccolo calcolo potete andare a vedere nei mesi indietro ovviamente c'è qualche mese che ha dato esito negativo un altro ambo che mi ricordo è stato perché ovviamente l'abbiamo preso in massa se non vado errato se non vado errato ovviamente tutto non me lo ricordo era quello con il forse a marzo forse a febbraio vabbè non me lo ricordo comunque il conteggio potete andarlo a fare voi 18 81 i due abbinamenti insomma potete potete andare a controllare voi stessi allora ragazzi luglio in festa eccolo qui lui è in festa 3 ovviamente poi è finito poi ci sarà partiremo con agosto in festa 1 il 57 e il 22 saranno i protagonisti due piccole previsioni ovviamente su queste su queste condizioni mi raccomando mi raccomando perché avete visto col 67 e 22 cosa è successo avevamo 67 e 22 è uscito su Bari Palermo nazionale non ci ha pagato le due ruote ma ci ha pagato ben tre ambi secchi in una volta e per poco non abbiamo fatto il terno secco su tutte perché era 67 e 22 44 ok perciò mi raccomando chi ha queste due previsioni dico sempre che chi acquista queste mie due previsioni concentratevi su queste previsioni queste sono previsioni che due tre colpi andiamo a incassarle alla grande allora vi avevo detto che c'era questa nuova formuletta che nemmeno Ianto lo sa dove noi con quattro estrazioni ogni due tre colpi andiamo all'incasso ma dobbiamo essere bravi a giocare allora io vi ho dato il 27 e il 28 ve l'ho dato su Firenze e Roma il 27 e il 28 e scusate Firenze e Palermo è un Ambo che si può continuare a giocare tranquillamente per chi eccola qua questa è una nuova formuletta che noi in due tre colpi andiamo all'incasso non ne sbaglia uno non ne sbaglia uno questa previsione è composta da una terzina attenzione perché dà parecchi terni secchi ovviamente io questa qua ve l'ho regalata perché cerco sempre di aiutare chi mi segue dobbiamo andare in ferie e magari la lottomatica ci premia anche con un terno secco a tutte ma noi ci accontentiamo anche di un bellissimo ambetto ogni due estrazioni questa è una formuletta che ci ho messo dei mesi dei mesi per tirarla fuori c'era il periodo che non facevo dirette su YouTube alla fine sono riuscito ma mi sta dando veramente tante soddisfazioni Cagliari Torino 8-38-62 imparate a giocare anche l'ambetto a tre numeri perché il 90% di queste previsioni paga l'ambo in terzina o l'ambo secco fate voi ma quando esce l'ambo secco scappa anche l'ambetto si avvicina tantissimo al terno ok perciò questa formuletta in un anno dà veramente parecchi terni ma immagino già questi geni geni del lotto che sono su tutti i gruppi dire adesso come facciamo che non sappiamo non possiamo copiare la previsione perché non sappiamo la formuletta come facciamo adesso come facciamo che questo finché non ci dà la formuletta non possiamo mettere la previsione se no ci sgamano ma state tranquilli che hanno la faccia talmente eh che la metteranno lo stesso la previsione allora Cagliari Torino 8-38-62 ambo ambetto eterno occhio sempre alle ruote diametrali perché questa è una formuletta che non dà scampo vedete come evidenziato Cagliari Torino ma occhio perché io vi ho detto che questa due tre colpi paga e potrebbe anche scendere sulle sue diametrali non vi spaventate qui sono tre numeri un euro ambo due euro ambetto e cinquanta centesimi il terno perché sul terno non bisogna giocare l'impossibile cinquanta centesimi di terno secco su due mila e duecentocinquanta euro euri giocare un euro di ambo due euro di ambetto e cinquanta centesimi di terno spendete giocando Cagliari Torino e diametrali dieci euri e non mi raccontate che non spendete dieci euri perché vi giocate l'impossibile l'impossibile perciò ma questa è una formuletta che ne sentiremo parlare ma ne sentiremo parlare parecchio e questa ve l'ho regalata questa ve l'ho regalata ma ad agosto questa formuletta si giocherà nel mio gruppo abbonati perché meritano veramente tanto mi danno sempre fiducia e ovviamente un ringraziamento particolare particolare a loro che mi danno sempre fiducia perciò questa è la mia proposta di gioco 8-38-62 ambo ambetto eterno ce l'avete scritta qua chi vuole giocarla la gioca altrimenti seguite questi geni dell'otto dal capitano è tutto un grosso besos grazie a tutti grazie a tutti